Ciao! Oggi parliamo delle frazioni, andiamo a vedere cosa sono, come si suddividono e vi propongo poi un giochino. Dunque, nella vita di tutti i giorni ci succede spesso di avere a che fare con delle parti di un intero. Facciamo un esempio, la torta, non è che me la mangio tutta la torta, ma spesso cosa facciamo? Ce la dividiamo in fette per mangiarla. In fette ipotizziamo uguali. Questa torta è stata divisa in quattro parti uguali. Quindi possiamo dire che ogni parte può essere indicata con una frazione. Le frazioni servono proprio per esprimere, rappresentare le parti di un intero. Quindi frazionare significa dividere un intero in parti uguali. Andiamo a fare degli esempi. Ora questo è un intero frazionato. Abbiamo un rettangolo e l'abbiamo diviso in sei parti, esattamente uguali. Quindi queste parti, questo intero e le sue parti, possono essere espressi attraverso delle frazioni. Invece questo è un intero non frazionato. È diviso in tre parti, ma non sono uguali tra di loro. Perciò non potrà essere espresso attraverso delle frazioni. Un'altra cosa importante è l'unità frazionaria, che sarebbe la singola parte in cui viene diviso il nostro intero. Cioè l'unità frazionaria rappresenta una sola delle n parti uguali in cui è stato diviso l'intero. Vediamo questo cerchio, immaginiamo che sia una pizza, è stato diviso in sei fette. Ok, la fetta singola, in sei fette uguali, la fetta singola, quella colorata di giallo, in questo caso è la nostra unità frazionaria. Ma come si scrivono le frazioni? Allora, abbiamo un numero in alto, diciamo, che è il numeratore e ci dice quante parti considero. Poi abbiamo un bel trattino sotto il numeratore, un trattino divisore, e in basso andremo a scrivere un altro numero. Il denominatore, che ci dice in quante parti uguali viene diviso l'intero. Facciamo sempre l'esempio della nostra pizza, del nostro cerchio, è stato diviso in sei parti, quindi sotto scrivo sei, e quanti sono le parti colorate? Una sola, quindi sopra il numeratore vado a scrivere uno. Si legge un sesto. Le frazioni si dividono in frazioni proprie, che rappresentano una parte minore dell'intero, e il numeratore, in questo caso, è minore del denominatore. Andiamo a fare un esempio. Allora, scriviamo il denominatore di questo cerchio, è stato diviso in otto parti. uguali, quindi vado a scrivere otto nel denominatore sotto il trattino, e poi quante parti sono colorate? Tre, perciò nel numeratore vado a scrivere tre, considero tre parti, tre ottavi. Tre è minore di otto, quindi andiamo anche a controllare, a osservare il disegno, e vediamo che la parte colorata è più piccola dell'intero, quindi questa sarà una frazione propria. Frazioni impropie, invece, rappresentano una parte maggiore dell'intero. Il numeratore è maggiore del denominatore. Qua abbiamo sette quinti, sette è maggiore di cinque. Perfetto, proviamo ad andare a rappresentarla, questa frazione. Allora, prendo un intero, lo divido in cinque parti uguali, però, cosa noto? Che a me non bastano cinque parti, perché devo prenderne sette, ok? Quindi, cosa vado a fare? Vado a prendere un altro intero, lo divido in cinque parti, e ne considero questa volta solo due, in modo tale che in totale le parti colorate siano sette. Quindi, questa frazione, sette quinti, è una frazione impropria. Mi servono due interi per rappresentarla. E come possiamo ben vedere, la parte colorata di rosso è maggiore, più grande, dell'intero stesso. Adesso passiamo ancora alle frazioni apparenti, che rappresentano, in questo caso, un intero. Cioè, possono rappresentare, possono avere il numeratore e il denominatore uguali, oppure uno multiplo dell'altro. Facciamo il nostro esempio, che abbiamo cinque quinti. Facciamo il disegno, quindi lo dividiamo in cinque parti, vediamo bene che ne consideriamo cinque, sono tutte rosse, è tutto colorato il nostro intero. Quindi, in realtà, questa frazione non considera una parte, ma l'intero stesso, per quello che si dice apparente. Frazioni equivalenti sono le ultime. Allora, sono delle frazioni diverse, che però rappresentano la stessa porzione di un intero. Passiamo a fare l'esempio, che abbiamo due cerchi, che sono stati divisi in parti diverse. Andiamo a scriverle qua al denominatore. Scriveremo sei, perché è stato suddiviso questo cerchio in sei parti. Al numeratore mettiamo due. Ne considero due, sono due le parti colorate, quindi ho due sesti. Nell'altro cerchio, invece, ho diviso in tre parti uguali, ne considero una, quindi un terzo. Però andiamo a osservare bene il disegno. Le parti considerate, le parti colorate, sono esattamente uguali, quindi si dice che due sesti e un terzo sono delle frazioni equivalenti, perché rappresentano la stessa porzione, la stessa parte di un intero. Facciamo degli esercizi insieme. Allora, dobbiamo andare a indicare quale tra queste frazioni è quella che rappresenta il nostro cerchio. Allora, andiamo a vedere in quante parti è stato suddiviso. Io conto otto fette e otto parti, quindi tra queste frazioni quella che ha otto al denominatore è questa qui. Andiamo un po' a controllare se però sono quattro le parti colorate. Uno, due, tre e quattro, sì. Quindi quattro ottavi, questa è la mia frazione, la frazione che rappresenta questo disegno. Ora proviamo a fare un altro esercizio. Dobbiamo dire, osservando questi disegni e le frazioni, quale è quella propria, quale è quella apparente e quale è quella impropria. Cominciamo con tre quarti. Allora, tre minore di quattro, vediamo che anche la parte colorata è più piccola dell'intero, quindi numeratore minore del denominatore è una frazione propria. Andiamo a mettere l'etichetta sotto. Passiamo alla seconda, sette quarti. Già vediamo che abbiamo avuto bisogno di due interi per rappresentarla. Poi, consideriamo che sette è maggiore di quattro, il numeratore è maggiore del denominatore, quindi questa è una frazione impropria. Andiamo a mettere l'etichetta. L'ultima. Beh, allora, quattro quarti, quindi abbiamo praticamente il disegno che è da considerare tutto, perché noi consideriamo tutte e quattro le parti in cui è stato frazionato, quindi questa è una frazione apparente. Rappresenta un intero, rappresenta l'intero. Adesso vi presento un piccolo gioco. È il domino delle frazioni. Si gioca esattamente come il domino, classico, ma si utilizzano le frazioni. Potete farlo voi. Eccolo qui. Allora, io ho tutte queste tesserine, che sono come le tessere del domino. Le ho incollate su un cartoncino. Cos'ho? Da una parte ho una frazione. Dall'altra ho un disegno frazionato. Quindi, devo abbinare il disegno alla frazione, semplicemente. Proviamo con questo. Allora, qui ho un triangolino diviso in due e una parte sola e colorata, quindi la frazione giusta è un mezzo. Eccola qua. La vado a sistemare. Come il domino, proprio. Adesso guardo, dunque, di nuovo un quadrato che è diviso in due parti uguali, ne considera una. Quindi, in teoria dovrebbe essere, di nuovo, un mezzo. Vado a cercare un mezzo, ma non ce l'ho, però. Ho due quarti. Due quarti è la frazione equivalente a un mezzo, che quindi è giusta, perché rappresenta esattamente l'immagine. Proviamo col cerchio. Questo è diviso in sei parti, parti, ne considera cinque, quindi devo cercare cinque sessi. Eccolo qua. Perfetto, questo è giusto. Lo vado a mettere dove voglio, proprio come il domino. Ultimo disegno. È diviso in cinque, ne considera solo una, quindi devo cercare un quinto. Vado un po' a cercare un quinto. Se lo trovo... Eccolo qua. E lo vado a mettere, così via. Bene, questo è un giochino divertente. Spero il video sia stato utile. Vi ringrazio. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.